Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vedremo la soluzione dei quesiti della simulazione del test medicina delle università private. Allora, la simulazione è stata organizzata in collaborazione con Leonardo Giuntella, che ringrazio, per aver curato la parte di biologia e chimica. Il test, come sapete, era strutturato in questo modo, 60 domande in un'ora, 35 di logica, 5 di matematica, 5 di fisica, 5 di cultura generale e poi 5 di chimica e 5 di biologia, che ha curato appunto Leonardo. Ho voluto mimare un po' la struttura generica delle private, perché c'è una leggera differenza tra le varie private, ad esempio il San Raffaele non ha le domande di cultura generale, ma non ha neanche le domande di religione che ha la cattolica, invece al campus c'è qualche domanda di cultura generale e così via tra le varie università private. Quindi ho cercato di essere un po' generico e creare un test che fosse strutturato in media come quelli dei test medicina nelle private. Il punteggio finale come si calcola? Ovviamente attribuendo un punto per domanda corretta, sottraendo 0,25 per ogni domanda sbagliata, invece una domanda lasciata senza risposta mi dà 0 punti. Prima di vedere la correzione dei quesiti vi ricordo che sono disponibili i vari corsi dentro la logica, tra cui il corso completo di logica che in 67 video lezioni registrate fa una panoramica su tutti gli argomenti di logica del test di ammissione per una durata di 25 ore. I quiz vengono divisi nelle varie categorie. I video sono strutturati come questo video che state vedendo ora. Poi abbiamo sulla stessa riga il corso completo di matematica che è composto da 20 lezioni registrate per una durata di 13 ore dove vengono risolti 500 quesiti in matematica sul programma dei test di ammissione. Poi per chi deve tentare il test di medicina alle private, San Raffaele è cattolico, ho realizzato una serie di video in cui risolvo i quesiti delle prove ufficiali degli anni precedenti, quindi quelle che vanno dal 2017 al 2021. Ogni video dura circa un'ora e appunto analizzo le prove del 2017 fino al 2021, evidenziando i quesiti che si ripetono sempre più spesso e facendo vedere anche delle strategie di soluzione rapide per questo tipo di quesiti. Vi lascio il link in descrizione oppure potete scrivermi anche sui miei canali social che trovate anche in descrizione. Allora partiamo subito col quesito 1. 15 calciatori scendono in campo per una gara prima dell'inizio della partita, cioè si stringe la mano a tutti gli altri. Quante strette di mano ci saranno in totale? Allora questo è un quesito di calcolo combinatorio. Abbiamo una combinazione di n uguale 15 persone, quindi 15 calciatori, che formano delle coppie, perché la mano si stringe due persone alla volta e quindi k uguale 2. Quindi abbiamo 15 persone e due posti. L'ordine non conta perché sia Alberto dalla mano a Giovanni e Giovanni dalla mano a Alberto, ovviamente la stessa stretta di mano. Questo ci fa capire che è una combinazione. Inoltre è sicuramente una combinazione senza ripetizioni, cioè non è possibile darsi la mano da soli. Quindi combinazione semplice, la formula è n fattoriale, k fattoriale, n meno k fattoriale, quindi 15 fattoriale diviso 2 fattoriale, il nostro k, e poi qui n meno k quindi 15 meno 2 fattoriale. Otteniamo semplificando 15 per 14 diviso 2, ovvero 105. C'è anche una formula rapida per le strette di mano che vale soltanto per le strette di mano, attenzione, tra n persone è n per n meno 1 diviso 2, quindi tra 10 persone ad esempio devo fare 10 per 9 diviso 2. Quindi in questo caso la nostra risposta è 105. Quesito 2, Belisario, Aragona e Normanno sono tre cavalli da corsa. Belisario e Aragona hanno la stessa probabilità di vittoria e ciascuno di loro ha il doppio di probabilità di vittoria di Normanno. Qual è la probabilità dell'evento X, vittoria di Belisario, o dell'evento Y, vittoria di Aragona? Siamo nel campo del calcolo delle probabilità. Allora noi sappiamo che la somma della probabilità che vinca Aragona di quella che vinca Belisario e di quella che vinca Normanno è 1, perché uno dei tre cavalli ovviamente dovrà necessariamente vincere, quindi la somma delle probabilità deve fare il 100%, 100% che scriviamo come 1. Poi sappiamo che la probabilità di Aragona è uguale a quella di Belisario e loro sono il doppio di quella di Normanno. Quindi andiamo a sostituire questo nella prima espressione, otteniamo al posto di PDA 2Pdn, 2Pdn e poi Pdn, quindi troviamo questa espressione, da cui troviamo che 5 volte la probabilità di Normanno è uguale a 1 e quindi la probabilità di Normanno è uguale a 1 quinto, di conseguenza Aragona 2 quinti e Belisario uguale Aragona 2 quinti. Adesso ci viene chiesto qual è la probabilità di vittoria di Belisario oppure Aragona, nel calcolo di probabilità come ci dice, oppure dove effettuare una somma, quindi 2 quinti più 2 quinti ovvero 4 quinti. 4 quinti che vi ricordo è l'80%. Quindi in questo caso la risposta corretta era la D. Coesito 3, una commissione è composta per il 60% da donne di cui il 40% sono laureate in veterinaria. Inoltre nel totale della commissione uomini e donne i laureati in veterinaria sono il 60%. Determinare tra gli uomini presenti in commissione la percentuale di quelli laureati in veterinaria. Allora in questo caso ci è utile costruire il seguente schematto. Supponiamo di avere 100 persone, quindi il nostro 100% sono proprio 100 persone. Abbiamo il 60% donne, quindi 60 donne e il resto saranno uomini, quindi 40 uomini. Del 60% delle donne, il 40% è laureato, quindi 6 per 4, 24, quindi 24 donne sono laureate e 36 non sono laureate. Adesso sappiamo anche che sul totale della commissione, quindi su questi 100, il 60% è laureato. Quindi se 60 persone in totale tra uomini e donne sono laureati e 24 donne sono laureate, vuol dire che gli uomini laureati saranno proprio 60 per 24, ovvero 36 uomini laureati e di conseguenza 4 uomini non laureati. Vediamo invece adesso cosa ci chiede. Ci chiede la percentuale di uomini laureati in veterinaria tra gli uomini. Attenzione, non sul totale. Sul totale è 36 sul 100, ma ci chiede tra gli uomini. Quindi devo fare 36 su 40. 36 sul 40, semplificato, è proprio il 90%. Quindi in questo caso la risposta corretta è B. Poi sito 4. In un villaggio africano vivono 800 donne. Il 3% di esse porta un solo orecchino. Del rimanente il 97%, metà porta due orecchini e l'altra metà nessuno. Quanti orecchini portano in totale tutte le donne? Allora, in questo caso potrei fare i calcoli, quindi calcolare il 3% di 800, che sono 24 persone, quindi 24 orecchini. Poi potrei calcolare il 97% di 800 e 776 e dire che metà, ovvero 338, ne porta due e l'altra metà zero. Sommare tutto e riottenere di nuovo 800. Perché riottengo di nuovo 800? Che è proprio il numero di donne. Perché se la metà ne porta due e la metà ne porta zero è come se in totale tutti ne portassero uno, perché la media di due e zero è proprio uno. Quindi è come se tutte le mie 800 donne in questo villaggio africano portassero soltanto un orecchino, e quindi 800 donne, 800 orecchini. Risposta C. Quindi in questo caso evitate di fare i calcoli, ma usate questo piccolo trucchetto che chi aveva creato l'esercizio ha messo ad hoc, diciamo. Quesito 5. Se la figlia di Teresa è la madre di mia figlia, chi sono io per Teresa? Allora, la figlia di Teresa è la madre di mia figlia. Io posso sostituire questa frase, la madre di mia figlia, con io, perché io sono la madre di mia figlia, se fossi una donna ovviamente. Possiamo quindi riformulare la traccia dicendo la figlia di Teresa sono io. Quindi la protagonista è proprio la figlia di Teresa. Quindi che rapporto ha con Teresa è la figlia. Attenzione a non rispondere la madre, perché ci chiede chi è questa persona rispetto a Teresa, quindi la figlia. In una famiglia ciascuno dei figli ha almeno tre fratelli e tre sorelle. Da quanti figli almeno è composta la famiglia? Allora, qual è la soluzione in questo caso? Attenzione almeno, perché ovviamente potremmo avere anche 100 persone, noi vogliamo il numero minimo. Il numero minimo è 8, 4 maschi e 4 femmine. Perché è proprio 4 maschi e 4 femmine? Perché in questo modo un maschio avrà 3 fratelli maschi e 4 sorelle femmine e una femmina avrà 3 sorelle e 4 fratelli. Già con 7 non riusciamo a ottenere il risultato corretto, in quanto uno dei due sessi avrebbe soltanto o due fratelli o due sorelle. Quindi il numero minimo in questo caso è 8. Quesito 7, 5 treni A, B, C, D ed E partono dalla stessa stazione, diretti in 5 città differenti. Si sa che C è più veloce di B, ma arriva dopo di questo, che è invece il primo ad arrivare. A è l'ultimo ad arrivare, anche se è più veloce di D e meno veloce di B. È il secondo treno ad arrivare a destinazione, è più veloce di A. In base alle precedenti informazioni, il quinto treno più lento è... Allora, attenzione, perché abbiamo due livelli di informazione. Uno riguarda la velocità e un altro riguarda chi arriva prima e chi arriva dopo. L'informazione su chi arriva prima e chi arriva dopo è totalmente inutile, serve solo come distrattore. A noi interessano soltanto le informazioni sulla velocità. In base a queste informazioni possiamo creare l'ordine dal più lento al più veloce. Il più veloce è C. Poi abbiamo B, poi abbiamo A e infine abbiamo D ed E. Questo è l'ordine di velocità, quindi il più lento è D, il più veloce è C. Attenzione però alla risposta, non ci chiede il più lento, il più lento è il treno D. Lui ci chiede il quinto treno più lento. Quindi se questo è il più lento, questo è il secondo più lento, questo è il terzo più lento e questo è il quarto più lento, il quinto più lento è C, ovvero il più veloce. Quindi su cinque treni ovviamente il quinto più lento è proprio il più veloce, quindi c'era questo trabocchetto finale. Altra cosa a cui stare attenti è l'ordine delle risposte. Ad esempio se volete rispondere C non dovete mettere la risposta C ma dovete rispondere in questo caso B. Coesito 8 ci sono tre scatole e la prima contiene due palline bianche, la seconda due palline nere e la terza una bianca e una nera. Sui rispettivi coperchi ci sono le scritte BB, NN e BN, ma nell'apporre le etichette è stata fatta confusione, i coperchi risultano in disordine, in modo tale che quello che c'è scritto sul coperchio sicuramente non coincide con quanto è contenuto all'interno della scatola. Senza guardare all'interno di ogni scatola quante pallie è necessarie estrarre al minimo per determinare l'esatto contenuto delle tre scatole. Allora schematizziamo il problema, abbiamo tre scatole, su questa c'è scritto bianco, su questa nera e su questo bianco e nero. Nessuna scatola contiene davvero quello che c'è scritto sopra, quindi la scatola dove c'è scritto bianco conterà o solo nero o bianco e nero, quella su cui c'è scritto nero conterrà o bianco o bianco e nero, quella su cui c'è scritto bianco e nero conterrà o bianco o nero. A questo punto devo scegliere da dove iniziare a pescare. Sicuramente non pescherò da questa scatola, perché se da questa scatola, la prima, ottengo ad esempio una pallina nera, non riesco a distinguere se lì ci sono palline soltanto nere o palline bianche e nere simultaneamente, quindi potrei trovarmi a pescare tante palline e non capire nulla. Invece la scatola da cui pescare è questa. In questo modo, se pesco una bianca ci sono tutte bianche, se pesco una nera ci sono soltanto tutte nere. Supponiamo di pescare una bianca, quindi qui non ci saranno le bianche e ci saranno le bianche e le nere. Quindi qui non ci saranno le bianche e le nere, in questo caso qui ci saranno le nere. Quindi in questo modo, con una sola pescata da questo contenitore, attenzione, riuscirò sicuramente a ordinare tutti e tre gli scatoli. Quindi la risposta corretta è una sola pescata. Quesito 9. A una festa partecipano 8 studenti, i quali complessivamente possiedono 17 cellulari. Determinare quale delle seguenti affermazioni è sicuramente vera. Allora, 8 studenti, 17 cellulari. Possono essere disposti questi cellulari in qualsiasi modo, sempre però la somma deve fare 17. Quindi magari un solo studente ne ha 17, tutti gli altri 0. Oppure tutti hanno due cellulari, tranne una persona che ha tre cellulari, ad esempio. Quello però che è sicuro è che almeno un ragazzo possiede almeno tre cellulari, in quanto è impossibile che tutti possiedano due cellulari o meno. Perché se tutti avessero due o meno, 2 per 8 mi darebbe 16, mentre io ne ho 17. Quindi almeno qualcuno ne deve avere almeno tre. Non è detto che qualcuno ne abbia esattamente tre, come abbiamo visto anche tutti possono averne 0 e uno soltanto 17, ma almeno un ragazzo ha almeno tre cellulari. Attenzione, queste parole sono importanti, quindi almeno al più, al minimo e così via. Quindi in questo caso la risposta corretta è la C. Là ad esempio non va bene perché ci viene detto che almeno un ragazzo possiede esattamente 3, ma questo non è detto. Almeno 3, non esattamente 3. Non sappiamo neanche se c'è un unico ragazzo che ne possiede 3. Magari uno ne ha 6, un altro ne ha 6 e tutto il resto ne ha 1 o 0. Quindi l'unica cosa certa è la C. Questi tu dieci, ogni madrepora è un antozoo e tutti gli antozoi sono cnidari. Nessuna medusa è un antozoo. In base alle precedenti informazioni, quale delle seguenti proposizioni non è sicuramente vera. Attenzione, vuole la falsa. Allora andiamo a schematizzare questo problema con i diagrammi insiemistici. Allora abbiamo le madrepore dentro gli antozoi che a loro volta sono dentro i cnidari o le cnidari, non so come si dice. E poi abbiamo le meduse. Nessuna medusa è un antozoo, ma non è detto che nessuna medusa possa toccare le cnidari. Quindi quello che non è sicuramente vero è la B. Tutte le meduse non sono cnidari. Non è detto. Le meduse non possono toccare l'insieme interno degli antozoi, ma nulla mi vieta che una medusa possa essere una cnidari. Quindi tutte le meduse non sono cnidari. Non è sicuramente vera. Potrebbe essere vera, ma non è detto che lo sia sicuramente. Quindi è la nostra opzione corretta. Quesito 11. Un cerchio può essere diviso al massimo in quattro parti con due tagli. In quanti pezzi può essere diviso al massimo con tre tagli? Allora, questo è il nostro cerchio. Facciamo il primo taglio, due parti. Facciamo il secondo taglio, abbiamo quattro parti. Facciamo il terzo taglio e abbiamo in questo caso sette parti. Molti a questo quesito rispondono sei, ma sei non è la risposta corretta, perché non è il numero massimo, in quanto se non si passa per il centro, proprio qui in mezzo si viene a creare la settima parte. Quindi il massimo numero di tagli, in questo caso, è sette. Quesito 12. Tutti i cappelli di Sara sono neri tranne due. Tutti i cappelli di Sara sono bianchi tranne due. Tutti i cappelli di Sara sono grigi tranne due. Quanti cappelli ha Sara? Allora, in questo caso, Sara ha proprio tre cappelli. Uno nero, uno bianco e uno grigio. Infatti, sono tutti neri tranne questi due. Sono tutti bianchi tranne questi due e sono tutti grigi tranne questi due. Quindi Sara ha sicuramente tre cappelli. Quesito 13. Questo è abbastanza impegnativo, è un problem solving. Allora, la nuova pizzeria d'asporto, pizza pazza e in menù sei pizze. Tutte, tranne la pizza margherita, contengono uno o due ingredienti aggiuntivi, oltre ai classici pomodoro e mozzarella. Un medesimo ingrediente aggiuntivo non può comparire in più di due pizze e inoltre noto che, se due pizze contengono un numero di ingredienti aggiuntivi, la pizza che ne ha di più, certamente è più costosa rispetto all'altra. La pizza curiosa in venti a 5 euro contiene salmone e melanzane. La pizza appetitosa e contiene salmone e olive nere è la più cara, 6 euro. Tutte le altre pizze hanno un prezzo inferiore al suo. La pizza più economica, invece, è la margherita e costa 4 euro. La pizza scoiattolosa ha un solo ingrediente aggiuntivo, le noci, che peraltro non compaiono in nessun'altra pizza. I prezzi proposti dalla pizzeria per le singole pizze sono tutti in molti di 50 centesimi. In una stessa pizza non possono mai convivere due ingredienti aggiuntivi appartenenti alla stessa categoria, dove per categoria si intendono le seguenti tre. Verdure e prodotti vegetali, pesci e carni, compresi salumi, formaggi e prodotti casearei. Allora, andiamo un attimo a riassumere un po' le informazioni che ci sono state date. Quindi c'è la margherita, che è un altro ingrediente aggiuntivo, costa 4 euro la più economica. La scoiattolosa, che è un solo ingrediente, costa 4,50 euro, in cui ci sono le noci. Perché 4,50 euro? Sicuramente non può costare 5, perché quella che costa 5 ha due ingredienti. E deve costare 50 centesimi in più della margherita, quindi sicuramente la scoiattolosa costa 4,50 euro. Poi abbiamo la curiosa salmone e melanzana a 5 euro, l'appetitosa salmone e olive a 6 euro. All'appello mancano due pizze che non conosciamo nella composizione del prezzo. Però siamo sicuri che non possono contenere il salmone perché è già presente in due pizze e che costano più di 4 e meno di 6 euro. Inoltre, se contengono un solo ingrediente, costeranno meno di 5 euro perché questa ne contiene due. Nessuna pizza con un solo ingrediente può costare più di una con due ingredienti. Quindi, se hanno un solo ingrediente, costano sicuramente 4,50 euro. Se invece hanno due ingredienti, possono costare come la curiosa 5 euro oppure 5,50 euro, ma non 6 euro. Questo ci ha un po' riassunto delle informazioni. Andiamo a leggere i quesiti. Se gli amici decidono di provare la nuova pizzeria ordinando ciascuna pizza diversa, il totale pagato dagli amici è... Allora, io per 4 pizze conosco ingredienti e costi, ma di 2 non conosco né gli ingredienti né i costi. Quindi posso fare il caso più economico e quello più costoso. Il caso più economico è quello in cui la pizza X e la pizza Y che non conosco hanno un solo ingredienti. In questo caso entrambe costeranno 4,50 euro. Il totale delle pizze che conosco e di queste due che non conosco è di 28,50 euro. Il caso più costoso invece è il caso in cui le pizze con due ingredienti costano 5,50 euro, ovvero hanno due ingredienti che costano più della curiosa. In questo caso otteniamo come somma 30,50 euro. Quindi si va da un più economico 28,50 a un più costoso 30,50, ma è impossibile dire quale sarà il valore corretto perché non conosco due pizze che ingredienti hanno e quanto costano. Questito 14, sempre sullo stesso brano, la pizza sfiziosa di cui non è nota la composizione a un prezzo di... Allora, non possiamo sapere il prezzo della sfiziosa, però sicuramente sarà compreso tra 4,50 se ha un solo ingrediente oppure 5,50 euro se ha due ingredienti, ma allo stato attuale delle informazioni che ci vengono date è impossibile determinarlo. Questito 15, quante sono nel complesso le pizze contenenti due ingredienti aggiuntivi offerte dalla pizzeria pizza pazza, tenendo conto delle sole informazioni contenute nel brano? Anche in questo caso non lo possiamo dire, possono essere 2, 3, 4, ma è impossibile stabilire quali sono e che ingredienti hanno. Quesito 16, tre amici ordinano altrettante pizze diverse tra loro, ma tutte con due ingredienti aggiuntivi. Qua tra le seguenti cifre sicuramente non corrisponde al totale pagate dagli amici per le tre pizze. Allora, queste pizze sicuramente non potranno costare in totale 17,50, perché? Perché la più costosa costa 6, le altre due più costose al massimo costeranno 5,50 e 5,50 più 5,50 più 6 mi dà un massimo costo su tre pizze 17. Siccome una sola costa 6 euro e le altre al massimo 5,50, io non ho nessun modo di arrivare a 17,50. Quindi in questo caso la risposta corretta è la B. Questi due 17, quale può essere una composizione plausibile per la pizza fantasiosa dal costo 5,50 euro? Allora, andiamo a vedere, vi porto qui la tabella con le informazioni, pomodoro, mozzarella, salsicce e tonno, questa non va bene perché ci sono due carni. Invece qui pomodoro, mozzarella, salsicce e noci, falso perché le noci ci viene detto che stanno solo nella scoiattolosa, solo in quella pizza quindi non possono stare anche nella sfiziosa. Vediamo invece questa, pomodoro, mozzarella e salmone no perché il salmone è già in due pizze. Pomodoro, mozzarella e melanzane no perché costa 5,50 euro e con un solo ingrediente dovrebbe costare 4,50 euro. Quindi l'unica possibilità è questa. Attenzione, è vero che c'è la ricotta insieme alla mozzarella ma tutte le pizze hanno come base la mozzarella quindi non posso avere oltre la mozzarella due formaggi insieme. Quindi la nostra risposta corretta è la C. Questi due 18, completare correttamente la seguente successione numerica, 32, 20, 16, 16, 8, 12 e 4. Allora, come dobbiamo ragionare? Non è una successione sequenziale ma bisogna saltare un numero e le chiamo successioni alternate che vuol dire da 32 si va a 16 facendo diviso 2, da 16 si va a 8 di nuovo diviso 2, da 8 con diviso 2 si va a 4. Invece da 20 a 16 meno 4, da 16 a 12 meno 4 e quindi qui 12 meno 4 mi darà 8. Quindi è una serie alternata e la risposta corretta è la D. Coesito 19, in un ipotetico linquaggio in codice la parola autonomo corrisponde al codice che viene riportato qui, la parola parallelamente a questo codice, quale sarà la parola corrispondente a fortuito? Allora, come è stata fatta questa criptazione? Semplicemente ogni vocale viene trasformata in ata, ete, iti, oto e utu. Quindi fortuito, vedete, la o diventa oto, la u diventa utu, la i iti e un'altra o, oto. Quindi in questo caso la risposta corretta è la B. Coesito 20, tenendo conto che al numero uguale corrisponde lettera uguale, individuare l'ultima parola della frase. Allora, in questo caso dobbiamo un po' aiutarci con le parole che appaiono. Partiamo dalla prima. Sicuramente questa è una parola di tre lettere che ha l'H al centro. In italiano ci sono poche lettere che hanno l'H al centro e non iniziano con la C. Diciamo quasi tutte le lettere in italiano che hanno l'H, poi le parole in italiano che hanno l'H hanno anche una C. Quindi questo probabilmente è un chi oppure un che, ma sicuramente il 5 sarà una C. Se il 5 è una C e al numero uguale corrisponde lettera uguale, vuol dire che nella parola che cerco io la quarta lettera deve essere una C. L'unica in cui la quarta lettera è una C è questa, D. Quindi pesci. In particolare potete poi divertirvi a risolvere tutta la frase che è Chi dorme non piglia pesci. Quesito 21. Il piccolo Alessio sta giocando con 529 tessere di legno colorato tutte a forma di triangolo equilatero e aventi le stesse dimensioni. Costruisce con tutte le tessere affiancandole un grande triangolo equilatero. Considerando il lato di ogni tessera come unità di misura U, quanto vale il perimetro del triangolo ottenuto? Allora, in questo caso c'è una strategia per risolvere questi pesiti veramente in maniera molto molto rapida. Ragioniamo sui triangoli. Con un triangolo farò un solo triangolo di lato 1. Con 4 tessere farò un triangolo di lato 2. Con 9 tessere farò un triangolo di lato 3. Questo che mi fa capire che con un quadrato perfetto riesco a fare un triangolo di lato n. Vedete? 4, 2, 9, e 3. Quindi io devo cercare la radice quadrata più vicina a questo numero, che in questo caso è proprio 23. 23 al quadrato è 529, quindi 529 è un quadrato perfetto. Quindi vuol dire che con 529 tessere io farò un quadrato di lato 23, anzi scusate, un triangolo di lato 23. E quindi il perimetro ovviamente è 23 per 3, 69. Quesito 22, Arturo e Bartolomeo fanno una corsa campestre. A 2500 metri dal traguardo Arturo si ferma per 4 minuti ad aspettare l'amico. Quindi ripartono insieme mantenendo le precedenti velocità. In un quarto d'ora Arturo vince con un minuto di vantaggio su Bartolomeo. Quanto misura l'intero percorso? Allora, in questo caso non devo ragionare tanto su velocità a spazio tempo, ma devo ragionare sull'informazione che mi viene dato, ovvero si ferma 4 minuti ad aspettare l'amico. E poi vince negli ultimi 2500 metri con un minuto di vantaggio. Quindi su 2500 metri Arturo ha guadagnato un minuto, su 5000 metri avrebbe guadagnato 2 minuti, su 7500 metri o per il triplo avrebbe guadagnato 3 minuti e così via. Se lui aveva un vantaggio di 4 minuti vuol dire che aveva 10.000 metri percorsi e quindi più gli altri 2.500 in totale sono stati percorsi 12.500 metri. Risposta C. Poi sito 23. In una biblioteca sono presenti diversi libri, 45 di logica, 60 di matematica e 35 di fisica. I libri devono essere sistemati nel maggior numero possibile di scaffali in modo che su uno scaffale ci sia lo stesso numero di libri di ogni tipologia. Quanti scaffali saranno necessari? Quanti libri di logica ci saranno su ogni scaffale? Allora in questo caso dobbiamo andare a calcolare il massimo comune divisore, perché il numero di scaffali dovrà essere un divisore di 45, un divisore di 60 e un divisore di 35. Siccome voglio il numero massimo devo cercare il massimo comune divisore. Allora come facciamo? Andiamo a scomporre 45 che è 5 per 3 alla seconda, 5 per 9, 60 che è 2 alla seconda per 3 per 5, 35 che 7 per 5 e poi si vanno a prendere soltanto i fattori comuni con l'esponente più piccolo. In questo caso c'è soltanto il 5. Quindi il numero di scaffali è 5. Come troviamo il numero di libri di logica? Semplicemente 45 diviso 5 mi dà 9 e quindi ci sono su ogni scaffale. Su ognuno dei 5 scaffali 9 libri di logica. Quindi l'esposta è 5 e 9. Questito 24. Mario è nato martedì 8 febbraio. Stella è nata mercoledì 8 marzo nello stesso anno. Di quale anno potrebbe trattarsi? Allora se provate a fare la seguente cosa, martedì 8 febbraio e andate avanti nel tempo fino all'8 marzo, vi accorgerete che l'8 marzo è martedì. Tranne se a febbraio ci sono 29 giorni, quindi questo può succedere soltanto in un anno bisestile, ovvero un anno in cui febbraio ha 29 giorni, perché altrimenti l'8 marzo sarebbe martedì. Tra questi l'unico anno bisestile è l'unico numero divisibile per 4, perché gli anni bisestili avvengono ogni 4 anni, quindi il numero deve essere divisibile per 4. Quindi 1976. Quindi tra gli anni presenti l'unico bisestile è il 1976 ed è l'unico in cui si può verificare che l'8 marzo non è martedì, ma è mercoledì. Questi tu 25. In un gruppo di 10 amici, 3 ragazzi hanno 28 anni ciascuno, 4 ragazzi hanno 21 anni ciascuno e 3 ragazzi hanno 24 anni ciascuno. Qual è l'età media del gruppo? Allora in questo caso dobbiamo fare la media, ma non è una media semplice, è una media ponderata. Come la svolgiamo? Come il numero di persone per la loro età, quindi 3 per 28, 4 per 21 e 3 per 24, diviso il totale delle persone, quindi diviso 10. Andiamo a svolgere questo calcolo e troviamo 240 diviso 10, ovvero 24. Quindi non posso fare la media semplicemente tra 28, 21 e 24, ma devo fare la media tenendo conto di quante persone hanno quell'età. Quindi la risposta corretta in questo caso è la C. Questi tu 26 individua l'alternativa da scartare fregata, caravella, galera, capitaneria e goletta. Allora sono tutte tipologie di navi, la caravella, la fregata, la galera e la goletta, sono tutte le tipologie di navi, tranne la capitaneria che non è una nave. Quindi in questo caso scarto capitaneria. Questi tu 27, quale tra le seguenti coppie dei miei proposti? Completa logicamente la seguente proporzione verbale. X sta erba, come tigre sta carne. Allora andate un po' a sostituire queste parole e vedete che ovviamente quella che ci sta meglio è pecora, carne, perché la pecora mangia l'erba, la tigre mangia la carne. Coesito 28, solo se il bagnino è presente si evitano gli incidenti sulla spiaggia. In base della precedente affermazione è necessariamente vero che solo se identifica una condizione necessaria mi serve che il bagnino sia presente affinché come conseguenza si evitano gli incidenti. Attenzione però, la condizione necessaria è un qualcosa che mi serve, ma non è detto che mi basti. Quindi non è detto che se c'è il bagnino sicuramente si evitano gli incidenti. È un po' come l'esempio della patente. Solo se ho 18 anni posso prendere la patente dell'auto, ma non è detto che se ho 18 anni la prenderò sicuramente. Quindi è un prerequisito ma che non necessariamente mi porta alla conclusione. Quello però che è certo è che se il bagnino non è presente, gli incidenti non si evitano. Quindi la spiaggia corretta è la C. Non A, quindi non bagnino presente. Non B, non si evitano incidenti. Coesito 29, non è incorretto non negare che non lo puoi scrivere. La precedente affermazione equivalente a. Allora siamo nel campo delle negazioni multiple. Vi ricordo che in italiano ogni doppia negazione corrisponde a un'affermazione. Quindi non è incorretto, le posso semplificare, diventano è giusto. Non è negare, si semplifica e diventano affermare. Quindi è giusto affermare che non lo puoi scrivere. Quindi non lo puoi scrivere. Potete ragionare sempre in questo modo semplificando le doppie negazioni. Attenzione che la negazione non necessariamente è un qualcosa col non. Anche incorretto è la negazione di corretto. Questi su 30 è logica figurale. Per individuare la figura è completa la serie proposta. Allora abbiamo qui un cerchio vuoto, poi appare un quadrato. Sopra al quadrato e attenzione ai livelli di sovrapposizione appare un altro quadrato grigio. Adesso nella nuova figura appellerà un nuovo quadrato, in questo caso capisco del quadrato nero, ma che deve essere sovrapposto al grigio, non sotto il grigio ad esempio come in figura 5. L'unica risposta corretta è la 4 in cui questi due si trovano nella stessa posizione e sono uno sopra l'altro e il nero va sopra entrambi. In questo ad esempio il bianco è sopra il grigio, non va bene. In questo il grigio è sopra il bianco e il nero è sopra tutti, però hanno cambiato posizione. Stesso discorso qui, quindi la figura corretta è la figura 4. Questito 31. Quale figura completa la serie? Allora abbiamo una sorta di scacchiera con dei numeri e un quadratino. Capiamo prima come funzionano i numeri. Il numero identifica la riga e la colonna. Che vuol dire? Immaginate qui di avere A, B, C, D e qui di nuovo A, B, C, D. Questa è la riga C, colonna B, riga A, colonna A, riga B, colonna D, riga A, colonna B. Allora andiamo a escludere qualche soluzione sbagliata. Qualcuna di queste è sbagliata. Ad esempio questa sicuramente non è la soluzione corretta perché vedete C, B, questa è la riga C, ma è la colonna A, quindi già non va bene. Questo invece A va bene, BB va bene e anche CB va bene. Quindi dobbiamo adesso vedere il quadratino cosa fa. Il quadratino, ricordate all'inizio ho detto una sorta di scacchiera, si muove come il cavallo nella scacchiera, ovvero formando una L. Allora vedete qui formo la L e vado qui, qui formerò un'altra L e andrò a finire qui, qui formo un'altra L e vado a finire qui. Adesso qui formando una L posso andare qui, posso andare qui formando questa L oppure posso andare qui. L'unica risposta corretta è la 2 in cui fa questa L e va a finire qui, le altre non sono possibili, cioè facendo delle L non vado a finire in quelle caselle. Quindi la soluzione corretta è quella in figura 2. Coensito 32, il rapporto tra la figura 1 e 162 è lo stesso tra la figura 2 e... Allora in questo caso andiamo a contare il numero di lati di queste figure. La prima figura ha 9 lati e la seconda figura ne ha 7 e facciamo la proporzione tra questi numeri e il numero di lati, ovvero 9 lati sta a 162, come 7 lati sta a x, ricaviamo x dalla proporzione quindi 162 per 7 diviso 9 e otteniamo la soluzione corretta, 126. Quindi devo andare a fare una proporzione con il numero di lati. Coensito 32, il grafico riporta gli utili delle aziende alfa in grigio e beta in nero dall'anno 1 all'anno 4. Quindi beta in nero e alfa in grigio. Attenzione qui ci sono degli utili in negativo, cioè ovvero delle perdite. Leggiamo ora le domande. Quale è la seguente affermazione deducibile dal grafico? Allora vi dico già qual è la risposta corretta, l'andiamo a verificare e lascio a voi la verifica delle altre, sono soltanto calcoli ma anche abbastanza semplici. Allora il decremento percentuale dell'utile complessivo delle aziende alfa e beta tra l'anno 3 e l'anno 4 è stato quasi pari al 100%. Andiamo a vedere, nell'anno 3 avevamo per beta quasi 8, diciamo circa 8 e per alfa diciamo un 32. 32 più 8 mi fa 40. Tra l'altro si vede proprio in questo pezzettino quello che manca qui, quindi un totale di 40. Invece nell'anno 4 questo è negativo, questo è positivo ma sarà un 4 più o meno, questo sarà un meno 2, quindi si è scesi da 40 a 2, quindi è quasi diminuito tutto, quindi è quasi una diminuzione del 100%. Allora con riferimento al grafico, qual è stato l'utile complessivo delle due aziende alfa e beta nel triennio compreso tra l'anno 2 e l'anno 4, quindi riferito soltanto dal 2 al 4, devo andare a sommare questi valori. Notate che la banda nera è quella che manca qui, anche in questo caso è quella che manca qui, quindi già ho un 40 più un 40 più diciamo un 2, quindi circa un totale un 80 milioni. Con riferimento al grafico, qual è stato l'utile complessivo dell'azienda alfa nel biennio compreso tra l'anno 1 e l'anno 2? Allora, biennio tra l'anno 1 e l'anno 2, anche in questo caso andiamo a fare i conti, nell'anno 1 è meno 15, nell'anno 2 è 23 e il totale mi dà 8. Attenzione ai numeri negativi. Allora, passiamo adesso ai quesiti di fisica. Mettendo una sfera conduttrice carica a contatto con un grappolo formato da quattro sfere conduttrice elettricamente nette e identiche alla prima, quale frazione della carica iniziale rimane sulla sfera? Allora, quando vado a mettere altre quattro uguali alla prima, la carica presente sulla prima si va a distribuire in maniera uguale, quindi in maniera perfettamente identica, in porzioni uguali, su tutte e cinque le sfere. Quindi se prima aveva una carica Q, ognuna si piegherà la sua frazione e quindi ognuna avrà Q diviso 5. Quindi sulla sfera iniziale rimane un quinto e ognuna delle altre quattro sfere avrà un quinto. In totale, ovviamente, la carica si conserva e sarà sempre Q. Questito 37, una treta parte dei blocchi con accelerazione costante 0,5 metri secondo quadro, quanto impiega a raggiungere la velocità di 10 metri al secondo. Motore, tieni un uniformemente accelerato, la velocità è uguale alla velocità iniziale più l'accelerazione per il tempo, e la velocità iniziale è nulla perché in una gara si parte da fermi. Da qui possiamo ricavare il tempo come velocità su accelerazione molto semplice, quindi 10 diviso 0,5, ovvero 20 secondi. Questito 38, osservando un oggetto perfettamente immobile in galleggiamento nel mare, che cosa si può dire circa le forze che agiscono su di esso? Allora, su un oggetto che galleggia agiscono due forze. Una è la forza peso, che vuole farla affondare, M per G, massa per accelerazione di gravità. L'altra forza è quella della spinta di Archimede, che è proporzionale alla densità del liquido in cui siamo immersi e al volume esterno del corpo, quindi del volume immerso nell'acqua. Queste due forze combattono perché la forza di Archimede vuole spingermi verso l'alto, la forza peso vuole farmi affondare. Se io galleggio, queste due forze sono perfettamente uguali e quindi la loro somma vettoriale è nulla. Quindi possiamo dire che agiscono più forze, due forze, e la loro risultante è nulla. Qui ho esplicitato la forza di Archimede, quindi densità del liquido, volume immerso per G, e la forza peso, densità del corpo per volume totale, quindi questo prodotto mi dà proprio la massa M, per G, che è la costante gravitazionale, accelerazione di gravità. Questito 39, una colonia di mercurio è alta un metro, considerandolo che la densità del mercurio è 13.600 kg al metro cubo. Quanto va è la pressione relativa sul fondo della colonnina del fluido in esame? Allora, in questo caso dobbiamo utilizzare la legge di Semino, che serve proprio a questo, a trovare l'altezza di fluido che pressione esercita sul fondo. Quindi densità del fluido, 13.600, G, assumiamo 10 invece che 9,8 per semplificare i calcoli, e poi dobbiamo sostituire H, che è un metro. Qui 13.600 per 10 per 1, 136.000 Pascal. Risposta D. Attenzione a utilizzare sempre le gradenze del sistema internazionale. Le unità di misura del sistema internazionale sono fondamentali, perché altrimenti non otteniamo Pascal. Se ad esempio qui non metto chilogrammi a metro cubo, ma grammi, ottengo un'unità di misura sballata. Quesito 40. Due conduttori in serie hanno una resistenza totale pari a 90 Ohm. Posti in parallelo presentano una resistenza totale uguale a 20 Ohm. Quali sono le resistenze R1 e R2 dei due conduttori? Allora, in serie le resistenze si sommano, in parallelo invece si vanno a sommare i reciproci. Allora, verifichiamo subito che la somma mi dà sempre 90 Ohm. Adesso devo verificare quelle che in parallelo mi danno 20 Ohm. La risposta corretta è la B, in quanto 1 su 60 più 1 su 30 mi dà 1 su 20. Vado a fare il reciproco e ottengo proprio 20 Ohm, come cercavamo. Quindi, se metto in parallelo 60 Ohm e 30 Ohm, ottengo un'resistenza complessiva di 20 Ohm. Vi ricordo quindi che in parallelo si sommano i reciproci, 1 fratto, e in serie si sommano direttamente i valori. Passiamo alle domande di matematica. La radice quadrata del numero reale è A. Allora, la radice quadrata di un numero sappiamo che si può fare soltanto se il numero è maggiore o uguale a 0. Nel campo dei numeri reali, ovviamente, nel campo dei numeri complessi le cose cambiano. Quindi esiste se A è maggiore o al più uguale a 0. Quindi, se la radice è pari, e la radice quadrata è la radice pari, il numero è reale, quindi esiste soltanto se è maggiore o uguale a 0. Questito 42. La metà di un numero viene sommata al doppio del numero stesso. Se il risultato della somma è 9 mezzi, quanto vale il numero in questione? Allora, possiamo impostare una piccola equazione di primo grado. Metà di un numero più il doppio del numero mi dà 9 mezzi. Quindi andiamo a svolgere e troviamo che 5 mezzi x è uguale a 9 mezzi, semplifichiamo il 2 e quindi x uguale a 9 quinti, molto semplice. Risposta corretta la C. Questito 43 è un po' più impegnativo. Qual è la soluzione dell'equazione? Un quarto elevato a meno x per 8 alla terza diviso 2 alla terza uguale 2 all'ottava. Allora, possiamo rimaneggiare l'equazione. Un quarto lo scriviamo come 2 a meno 1 che elevato a 2 a meno 2 che elevato a meno x mi dà 2 elevato a 2x. Poi qui 8 alla terza lo scrivo come 2 alla nona, 2 alla terza lo lascio così e 2 all'ottava lo lascio così. Questo rapporto mi dà 2 alla sesta perché il rapporto di due potenze con la stessa base si semplifica il 9, si sottrae il 9 con il 3. Adesso vado a dividere per 2 alla sesta e quindi qui vado a trovarmi 2 alla seconda. Quindi qui ho 2 elevato a 2x e 2 alla seconda. Se la base è uguale vado a guagliare gli esponenti. 2 alla x uguale 2 e quindi l'unica soluzione possibile è che x è uguale a 1. Questito 44. Qual è il periodo minimo della funzione y uguale coseno i 3x meno i 3 mezzi? Anche questo è un po' più impegnativo. Siamo nel contesto della trigonometria. Allora, le funzioni coseno e seno hanno sempre periodo 2π. Cos'è il periodo? È l'angolo dopo cui la funzione si ripete uguale. Dopo 360 gradi il seno riassume gli stessi valori. Quindi il periodo di seno e coseno è 2π. Se l'argomento raddoppia il periodo di mezza. Se l'argomento triplica il periodo viene diviso per 3. Quindi coseno di 2x ha come periodo soltanto π. Coseno di 3x ha come periodo 2π, quindi periodo di base, diviso 3. Invece se l'argomento viene diviso per 2 il periodo raddoppia. Se l'argomento viene diviso per 3 il periodo triplica e così via. Le traslazioni, ovvero sottrate o sommare angoli, non cambiano invece il periodo. Capiamo questa cosa anche con un piccolo grafico. Qui la risposta è la c, 2π terzi. Andiamola a vedere anche graficamente. Allora, qui ho disegnato la funzione coseno semplice tra 0 e 2π. Infatti il coseno è intero e ha periodo 2π. Questo valore si ripete dopo 2π. Disegniamo invece coseno di 2x sempre tra 0 e 2π. Vedete, adesso il valore si ripete già dopo π. Quindi si ripete soltanto dopo π e poi si ripeterà di nuovo, ovvero ne entrano 2 nello stesso spazio. Quindi il periodo, in questo caso, è stato dimezzato. Qui ne entrano 3 se disegno coseno di 3x sempre tra 0 e 2π e quindi il periodo è stato diviso per 3. Invece qui ho disegnato sempre il coseno ma sottratto 90 gradi. Vedete, la forma rimane la stessa, non si stringe né allarga, si sposta soltanto ma il periodo rimane inalterato. Questito 45, l'ultimo dei quesiti di matematica, una retta di coefficiente angolare m uguale 5 settimi, passa per i punti meno 3 meno 2 e per il punto a3 del piano cartesiano, quanto vale il parametro a. Allora, dalla definizione di coefficiente angolare basta fare la differenza tra le y dei due punti diviso la differenza tra le x, quindi vado a fare 3 meno meno 2 e a meno meno 3 e lo vado a eguagliare a 5 settimi che è il valore del coefficiente angolare. Quindi mi troverò 3 più 2 fratto a più 3 uguale 5 settimi, a cui riesco a ricavare facilmente a uguale 4, quindi qua mi serve un 4 per totalizzare il 7, quindi in questo caso hai sposto corretto e la 5. Passiamo ora alle domande di cultura generale. Allora, le domande di cultura generale variano da test a test, io ho cercato di fare un test abbastanza generale, non ho inserito quindi le domande di religione, ci sono solo alla cattolica, ma alla cattolica troviamo anche della cultura generale e ci dovrebbe essere anche al campus, quindi ho deciso di mettere direttamente 5 domande di cultura generale in modo da tenermi abbastanza generico. Quale tra le seguenti persone elencate ha vinto due premi Nobel? Allora, la persona in questione è Marie Curie, che ha vinto sia il premio Nobel per la fisica nel 1903 che quello per la chimica nel 1911 e tra queste è l'unica persona ad averne vinti due. Quesito 47, per cosa sta l'acronimo UNICEF, quindi United Nations International Children Emergency Fund? Quindi risposta corretta la, quindi l'UNICEF è l'unione, diciamo il fondo per salvare i bambini nel mondo, per le emergenze dei bambini nel mondo. Quesito 48, quali tra le seguenti istituzioni ha il compito di controllare le finanze e l'Unione Europea? Le finanze e l'Unione Europea sono controllate dalla Corte dei Conti Europea. Anche l'Italia ha un organo simile, si chiama Corte dei Conti Italiano. Italiano, ovviamente. Quesito 49, nel mese di febbraio 2022 è deceduto il famoso biologo e virologo Luc Antoine Montagnier, per quale ricerca era stato insignito il premio Nobel per la medicina. Allora, lui ha lavorato molto sulla memoria dell'acqua, non è il motivo per cui ha vinto il Nobel, che è stato vinto per le ricerche sul virus dell'HIV, uno degli scopritori del virus che poi causa la malattia AIDS. Quesito 50, ultimo quesito di cultura generale. Quali tra i seguenti politici non è mai stato eletto Presidente della Repubblica Italiana? Allora, Francesco Cossiga, Giovanni Leone, Sandro Pertini, Oscar Luigi Stalfaro e Palmiro Togliatti. Sono tutti stati Presidenti della Repubblica Italiana, tranne Palmiro Togliatti, che era il segretario del Partito Comunista, ma non è mai stato Presidente della Repubblica. Allora, col quesito 50 finiscono le domande di cultura generale e si passa alle domande di biologia e di chimica. Quindi passo la parola a Leonardo Giuntella, che ci farà vedere la soluzione. Poi ci ritroveremo alla fine per i saluti finali. Grazie, Gerardo. Questa è la prima domanda di biologia. La risposta corretta è la E, poiché l'ormone FSH, ormone follicolo stimolante, rilasciato dall'adenoipofisi, stimola la produzione di estrogeni a livello ovarico, con conseguente picco di LH al quattordicesimo giorno, che coincide con l'ovulazione. Se l'ovulo non viene fecondato a livello ovarico, si forma una ghiandola endocrina, il corpo luteo, in grado di produrre il progesterone. Prossima domanda. La risposta è la D. All'inizio del ciclo di Kelvin, nella fase luce indipendente, avviene la fissazione dell'anidrite carbonica. Partendo dal ribulosio 1,5-bifosfato, che ha 5 atomi di carbonio, grazie all'enzima rubulosio-bifosfato-carbossilasi, con l'aggiunta di anidrite carbonica si ottengono 2 molecole a 3 atomi di carbonio, senza la produzione di ATP. Attraverso poi una serie di intermedi si otterrà il glucosio. Prossima domanda. La risposta è la A. L'impulso nasce a livello del nodo senoatriale, poiché presenta delle cellule in grado di auto-eccitarsi e di generare un potenziale d'azione. L'impulso attraversa gli atri e arriva al nodo atrioventricolare, dove l'impulso rallenta un po'. Da qui diparte il fascio di Is, che si divide in branca destra e in branca sinistra, per poi terminare con le fibre del Purchinie. Andiamo avanti. Prossima domanda. Risposta C. L'epistasi è la capacità che ha un gene di mascherare l'espressione fenotipica, ovvero quella visibile all'esterno, di un altro gene senza agire direttamente su di essi. Ma andiamo avanti. Nella prossima domanda la risposta è la D. Il reticolo endoplasmatico liscio svolge tutte le funzioni qui elencate, fatta eccezione per la glicosilazione, ovvero quel processo di modificazione di una proteina sintetizzata o durante la sintesi, che avviene principalmente nel reticolo endoplasmatico rugoso e nell'apparato di Golgi. Passiamo a chimica. Prima domanda, risposta C. Per dare il nome a queste molecole bisogna seguire delle regole. Come prima cosa bisogna trovare la più lunga catena di atomi di carbonio. Il composto assumerà il nome del corrispondente idrocarburo. In questo caso 8 carboni, quindi ottano. Successivamente bisogna numerare la catena idrocarburica, a partire dall'estremità più vicina ai sostituenti. In poche parole bisogna assegnare ai sostituenti il numero più piccolo possibile. Successivamente bisogna identificare tutti i sostituenti della catena principale. Se lo stesso sostituente appare più volte, si aggiungeranno i prefissi D, Tri, Tetra. Infine andiamo a delencare tutti i sostituenti in ordine alfabetico, prima del nome della catena principale. In questo caso, essendo un alcol, visto che c'è l'OH, aggiungeremo OLO come desinenza. E il numero 3 ovviamente ci indica la sua posizione. Andiamo avanti. Seconda domanda di chimica. Risposta B. Si parla di carboidrati. E, tra le tante classificazioni, c'è quella in chetosi e aldosi. Gli aldosi presentano un gruppo funzionale aldeidico, CHO, come funzione terminale. I chetosi, invece, presentano il gruppo chetonico, ovvero il carbonile CO, all'interno della catena. I principali zuccheri chetosi e aldosi vanno saputi. Prossima, risposta C. La normalità in chimica rappresenta la concentrazione di una soluzione, espressa dal numero di grammi equivalenti di soluto disciolti in un litro di soluzione. La molarità, invece, rappresenta il numero di moli di soluto disciolti in un litro di soluzione. Per passare da normalità a molarità utilizziamo questa formula. Ovviamente facciamo la formula inversa. La valenza operativa non è uguale per tutte le molecole. Nel caso degli idrossiti rappresenta il numero di OH che la molecola rilascia in soluzione. In questo caso, 2. Quindi andiamo a fare la normalità diviso 2, ottenendo la molarità. Ora, visto che l'idrossido di calcio è una base forte, ci andiamo a calcolare il POH. Per farlo ci servirà la concentrazione degli OH-. Dalla reazione vediamo che per ogni molecola di idrossido di calcio avremo 2 OH- in soluzione. Quindi andiamo a moltiplicare la molarità per 2. E questa sarà la concentrazione degli OH-. Ora, tramite la formula per ricavare il POH, ovvero meno logaritmo in base 10 della concentrazione degli OH-, troveremo il POH, che è 3. Sapendo che la somma tra POH e pH deve necessariamente fare 14, tramite una semplice sottrazione troveremo il valore del pH, ovvero 11, penultima di chimica. Risposta D. La giusta sequenza di ossidazione di un alcol primario è questa. Alcol, aldeide, acido carbossilico, i quali rispettivamente hanno questi gruppi funzionali. OH-CHO-COOH. Quindi la D è l'unica risposta che rispetta questo criterio. Ultima domanda. Risposta A. I numeri quantici definiscono le caratteristiche di un orbitale. Ce ne sono 4, di cui solo 3 definiscono gli orbitali. Il primo è il numero quantico principale, e può assumere solo valori che vanno da 1 a più infinito, e ci dà informazioni sulle dimensioni e l'energia dell'orbitale. Il secondo è il numero quantico angolare, il quale descrive la forma degli orbitali, e può assumere valori che vanno da 0 a n-1, di cui n è il numero quantico principale. Poi abbiamo il numero quantico magnetico, il quale indica come l'orbitale è orientato nello spazio. Può assumere valori che vanno da meno L a più L, compreso lo 0, dove L è il numero quantico angolare. Infine abbiamo il numero quantico magnetico di spin, che definisce la rotazione dell'elettrone sul proprio asse, e può assumere solo due valori, più un mezzo o meno un. Un grazie quindi a Leonardo per aver realizzato la parte di biologia e chimica, e non mi resta che salutarvi e augurarvi un in bocca al lupo per il vostro test.